Buona serata dal TG.com, esito a sorpresa dal primo dei due quarti di finale dei mondiali. In programma stasera il Portogallo ha battuto l'Inghilterra per 3 a 1 dopo i calci di rigore ed è in semifinale. Figo e compagni affronteranno la vincitrice di Brasile-Francia in campo a Francoforte. Sono 12 medici operanti in tre diversi ospedali di Messina indagati per la morte di una donna di 47 anni che era entrata in sala operatoria per un intervento per perdere peso, il reato ipotizzato e quello di omicidio colposo. Solo la famiglia e gli amici più intimi hanno partecipato a Liege ai funerali di Nathalie, una delle due bambine uccise da un pedofilo, lunedì l'estremo saluto all'altra vittima, la sorellina Stacey. Notizie comportanti dall'ospedale delle Molinette di Torino, Gianluca Pessotto ha aperto gli occhi e quando non è sedato è in grado di riconoscere le persone, i medici esprimono un cauto ottimismo. Queste e tutte le altre notizie in aggiornamento continuo su www.dgcom.it. Buona serata. San Genni è il bene che gli vuoi. Il bene è uno! Uno! Sono incinta. Dopo tutti i dubbi. Non sono io. Dopo i tentativi di fuga e le emozioni di una nuova vita. Sono rotte le acque. E vabbè, te ne prenderemo dell'acqua. Sono rotte le acque. Lou Grant Robin Williams Vieni con me! Tu seguimi! Nine Mounds. Imprevisti d'amore. Martedì 21 e 5 Italia 1. Non si potevano fregare in un luogo più civile. Un bel 5 stelle con solario. Abbiamo Osula. Ciro. Abbiamo Nesti. Gustosissimo tè freddo alla frutta. Buono di natura. E Nesti? Ciro. È la natura. Miracola. Nesti? Il tuo paradiso naturale. E quanto stai via? Tanto spero. E' tutta lì la tua roba. E' tutto quello che mi serve. Cioè zero. Zero. L'unica cosa che ti servirà davvero quest'estate è la 00 Summer Card di Vodafone. Attivala subito. Per parlare e mandare sms a zero centesimi. Life is now. Vodafone. Un vero pasticcio è quello che combinano i tuoi bambini. Un piccolo guaio capita quando sai come divertirti. Avvolge. E come trovarsi in un film dell'orrore? Con un lieto fine. Perché il nuovo Scottex Carta Spugna, grazie alle esclusive multirighe, è il più assorbente di tutti i rotoli da cucina. Nella vita ci può essere un po' di confusione. Assorbila con il nuovo Scottex Carta Spugna. Oggi c'è un nuovo trattamento per i tuoi capelli. Nuovo Davi Intense Care. Penetra in profondità. E rende anche i capelli più danneggiati, di nuovo morbidi, setosi e pieni di vita. Per capelli veramente splendidi. Scopri il trattamento perfetto per te. Nuovo Davi Intense Care. But I know y'all wanted that 808. Can you feel that B.A.S.S. But I know y'all wanted that 808. Can you feel that B.A.S.S. Honda Jets, so flexi, so sexy. Jets 7, la settimana del finanziamento flessibile. Vai in tutte le concessionarie Honda e crea il finanziamento che vuoi. Cinzano, ti fa entrare nel mondo del MotoGP. In Palio, 7 Honda CBR600RR Special Edition con kit racing. 200 navigatori portati Ligarmi Nubi 300 e 20 weekend di Ligona per assistere al MotoGP di Estorilla. Scopri sulle bottiglie come vincerli. Wow! Mi fai pazzire! Ah, che forza! Così mi piace! Immagina un dentifricio che ti faccia urlare di gusto. Nuovo Adel Complete Expressions. Nei suoi irresistibili gusti Citrus Breeze, Extreme Green, Exotic Energy. Che meraviglia! Non ne sei accorto, eh? Nuovo Adel Complete Expressions. Adel Z, un sorriso bello e sano, dall'A alla Z. Stanno dormendo. Li ha scaricati tutta la notte. Naviga senza limiti, di notte e nel weekend. Bastano 9,95 euro al mese con Alice Night and Weekend. Chiama il 187. Opel Meriva, la monovolume più venduta. Oggi è ancora più leader, con un equipaggiamento senza confronti. Nuova Meriva Twinport da 13.950 euro, più finanziamento a tasso zero. E con la grande prova Opel, un test drive fino a tre giorni. Fin dal primo giorno abbiamo capito quello che volevamo fare. Preparare cose buone con gli ingredienti e le ricette migliori. E poi, che era ancora più bello dividerle con qualcuno. Con chi vorrebbe che la colazione durasse tutto il giorno. E con chi non sa resistere alle tentazioni. Con chi ha un vero amico vicino. E con chi l'ha appena trovato. Questo è quello che facciamo ogni giorno. Perché riusciate ancora a stupirvi di quante cose buone ci sono nel mondo di mulino bianco. E nella vostra vita. Mulino bianco, scegli un mondo genuino. Dopo la doccia usa il mio olio John's House Baby. Sulla pelle bagnata dieci volte più idratante. Chi ha la pelle più morbida? John's House Baby Olio. Provalo nella tua fragranza alla lavanda. Ok, ancora un paio di scatti. Fermi un bel sorriso. Ehi! Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato? Shutter dal 30 giugno al cinema. Hai perso la tua vitalità? Ritrovala con le nuove bevande Vita Snella. Vitamine, magnesio e solo 9 calorie. Per sentirti in forma con gusto. Bevande Vita Snella. Elette prodotto dell'anno. Grazie! Un maschio! Perché ti chiamano tutti? Ho detto a tutti che mi è andato un figlio. Ma non è vero. Non so, ma così mi ricaricano il telefono. Vieno Wind. Subito gratis. 5 centesimi di ricarica. Per sempre. Non ho scoperto. Ma più mi insultano, più mi ricaricano. Perché tu vai, vai, dolce come il vento. Quanto spesso hai di no di me, non sul tuo volto. Vai, la, 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 la. Fammi venere. Punto. Con clima e radio cd da 111 euro al mese. Prima rata ottobre. A Italia 1! Sorpresa, guarda chi è arrivato. Forse quelle adorabili ragazze che il... Finalmente si sono ritrovate. Devo andare. Non voglio che tu vada. Ma mamma, sei appena arrivata. E anche se sono sempre le stesse, tutto intorno è destinato a cambiare. Lei è... Sì. Lo fa. Li ho cao una figlia. Chi? Potremmo rimandare. E il matrimonio? Una mamma per amica. Mercoledì alle 21.05 in Prima Visione Italia 1. Bentornati a un nuovo appuntamento con Navigare Informati. Gli avvisi di questa settimana riguarderanno il mar di Sardegna e il mare Adriatico. Sardegna, isola di San Pietro. Dal mese di aprile è stata posizionata una tonnara come da coordinate in grafica che è segnalata con boi di colore giallo e luce gialla lampeggiante. Le unità in transito prestino la massima attenzione. Brindisi, fino al 6 luglio, la nave Poseidon svolgerà una campagna oceanografica. Durante le operazioni è da considerarsi a manovrabilità limitata. Mostrerà quindi i prescritti segnali diurni e notturni. Prestate la massima attenzione. Ancona, nei giorni 1 e 2 luglio, dalle ore 9 alle ore 20, la zona di mare, antistante la città, sarà interessata da una regata velica con campo circolare. Infine, vi vogliamo ricordare, prima di prendere il mare, assicuratevi di avere carburanti a sufficienza per il viaggio di andata e di ritorno, tenendo conto dei consumi della vostra unità. Arrivederci al prossimo weekend, sempre con Navigare Informati. Siete voi!